Perché di questa iniziativa? Allora questa iniziativa nasce dalla volontà di diversi comitati cittadini e di tanti cittadini non associati a seguito dell'aumento vertiginoso che si è avuto sul nostro territorio nell'ultimo periodo di eventi criminosi. Non da ultimo quello di ieri, l'ennesima rapina a mano armata ai danni di un supermercato del nostro territorio che denota una situazione non più sostenibile da parte della cittadinanza. Abbiamo voglia di sensibilizzare i nostri cittadini a ritrovare quello che è un potere vivere sereno nelle nostre strade. Purtroppo l'escalation che abbiamo visto di violenza, rapini, furti, rapine, furti ci ha portato su tutti i rotocalchi e su tutte le testate nazionali. Noi vogliamo finire sui giornali per altri motivi. Siamo stanchi di dover vivere nelle nostre strade le attività commerciali che frequentiamo in maniera non serena. Abbiamo dei figli che crescono, che vivono questa città e abbiamo bisogno di tornare alla legalità. Non vogliamo sostituirci alle forze dell'ordine, vogliamo soltanto dire abbiamo bisogno di voi.